Si fermò fuori da una cancellata di ferro battuto per ammirare un impotente... Sì, un impotente. Sarebbero saltate fuori migliaiaio... Sarebbero saltate fuori migliaiaio... Migliaiaio! Per quello dovrai essere autorizzato da Kingsley... Kingsley. Per quello dovrai essere autorizzato da Kingsley... Kingsley. 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 Anzi, quando ti svegli da un incubo per metà dovuto alla... Anzi, quando ti svegli... Minca! La madre si era uccisa poco dopo. E io adesso ucciderò i cani. David pensò a una... David pensò a un aneurisma. Miss me la volevano smettere, oh, sti cazzo di cani... Cani e patroni di cani... Passo a stringervi le mani... Volte a fornire uno strumento di fortuna di mande... Perché è vero? Pesta... Aveva il cilindro inclinato all'indietro. Cazzo ceglieri... Viveva un ragazzo di nome Richard Gay... Gayle Svorty... Ok... Il vero nodo venne baciato dalla fortuna un caldo giorno di luglio... Nello... Aio... Cosa? A... Iowa... O... Aio... 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 Il vero nodo venne baciato dalla fortuna un caldo giorno di luglio... Nella... Aio... Aio... Nella... Ma cazzo si pronuncia? Iowa... Come sempre Roser è in testa alla carovana... A ovest di Adair... A ovest di Adair... Ste cazzo di pronunce... Come si pronuncia Adair? Adair... 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 Ho capito... Adair... 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 Aveva promesso alla madre e a... Ah... Vla... Non volevano essere tormentati dal pensiero del cazzo di aereo... Gli occhi gli si colmarono nuovamente di lacrime che gli righe... Che gli... È il giorno dopo il plenunio... E quindi è l'ora prima dopo il mezzo... E seguirono altri sghignazzi... Non appena lui aggiunse di avere scoperto un anno dopo che la gente faceva parte del fanculo... Treno... Levati di qui e non da... Cough... 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 Cough...